Ragazzi ciao a tutti, perdonatemi se parto subito con la sponsorizzazione ma dopo non voglio avere interruzioni sul discorso quindi parto subito con ricordarvi di scaricare il numero 10, nuova applicazione con cui collaboro trovate il link sotto in descrizione per il download, ovviamente gratuito credo che in mattinato come questi, in situazioni come queste, avere a disposizione un'applicazione del genere sia veramente molto importante perché ti permette di essere davvero aggiornato su tutte le notizie, quando poi davvero ci sono degli avvenimenti come quello di Juventus Salernitana avere un'applicazione che ti segue, che ti segue in questo modo qua, dandoti degli aggiornamenti così puntuali, così precisi e specifici secondo me è davvero utile e di grande aiuto per tutti quelli che sono ovviamente gli appassionati del modo del calcio anche perché poi dopo le stesse notizie sono quelle che noi creator su YouTube andiamo ad approfondire quindi sono anche abbastanza complementari come cose, anche perché poi vi ricordo come sempre che è un'applicazione che organizza dei contest e quindi si possono vincere anche delle magliette della Juventus chiedo un po' voi innanzitutto come state, perché quello che è successo ieri secondo me è proprio da appassionato di calcio cioè non parlo solo di tifoso juventino, parlo proprio di appassionato di calcio quello che è successo ieri è un qualcosa di brutto, davvero di brutto, di molto brutto mi è fatto piacere vedere tra virgolette un po' di solidarietà anche da parte di tante persone noi juventine sul web che davvero sono rimaste scandalizzate, che hanno urlato lo scandalo insieme a noi perché ripeto, ripeto, è una cosa che secondo me fa male un po' tutto il calcio non solamente al tifoso della Juve io ragazzi onestamente comincio questo video e non so nemmeno dove andrò a parare sono molto onesto, non so nemmeno dove finirà questo video perché sicuramente non voglio tornare a commentare l'errore arbitrale perché non ce n'è bisogno non sono ancora pronto a parlare della prestazione da Juventus adesso vedo se nel tardo pomeriggio in serata porterò l'inside di questa partita ma sono talmente tanto influenzato da quelli che sono stati i minuti finali e i post gara di questa partita che sono onesto ragazzi faccio molta fatica a fare un'analisi lucida perché in certi momenti secondo me certe cose, certe tematiche passano anche un po' in secondo piano sono un po' di questa idea io ragazzi ho un modo di vivere questa passione che è veramente un modo di viverla in prima persona io mi sento veramente, non mi piace la parola derubato ma mi sento addosso un'ingiustizia mi sento sulla pelle un'ingiustizia come se io avessi giocato questa partita me la sento, me la sento addosso me la sento addosso come se mi avessero strappato un qualcosa che ho conquistato pure io nonostante fossi a centinaia di chilometri di distanza dall'Allianz Stadium io ho questo modo di vivere le partite da tifoso qualcuno magari può essere più distaccato secondo me non sono migliore di voi non sono migliore di nessun altro ognuno secondo me ha il suo modo di vivere le partite il modo di seguire la Juventus quando tifa la Juventus io però ragazzi proprio perché ho questo modo di vivere la passione Juventus proprio perché ho questo modo di vivere il calcio io non mi capacito di alcune cose che ho letto ieri io non capisco come in tanti riescono a giudicare la prestazione di ieri riescono comunque a trovare come dire sempre del negativo sempre costantemente del negativo qualsiasi sia la situazione della Juventus ormai la Juventus è diventata una cosa monotematica monotematica cioè a fine partita non ci si chiede quello che ha fatto la Juventus a fine partita tu chiedi all'amico che non ha visto la partita gli dici se hai giocato bene o se hai giocato male cioè l'appassionato di calcio che può essere Juventino o no non ti chiede più quanto ha fatto la Juventus magari te lo chiede e poi subito dopo ti dice come ha giocato cioè ormai ormai la Juventus è diventata una roba monotematica monotematica non c'è nemmeno più l'impegno lo sforzo il tentativo di leggere la situazione di fare un'analisi un pochino più contestualizzata che cosa vuol dire ragazzi che cosa significa perché questo intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto anche in privato su Instagram con tantissimi messaggi di supporto tra l'altro quindi vi ringrazio davvero tanto di questo devo dire che ieri non ho ricevuto commenti troppo negativi anzi visto che in tanti come dire erano un pochino sulla mia stessa lunghezza d'onda ma se leggendo un po' quelli che invece era anche un po' il sentiment in giro per il web che cosa vuol dire che la Juventus al 93esimo non può essere 2-1 sotto con la sedernitana che frase è? che frase è? che affermazione è? ma cosa vuol dire? certo che può essere sotto con la sedernitana ragazzi certo che può essere sotto con la sedernitana al 93esimo eh può succedere perché nel calcio non vincono sempre le squadre più forti perché altrimenti non saremmo nemmeno l'incollata della televisione se non ci fosse nemmeno l'incertezza no perché lo sport è questa roba qua c'è Davide contro Gugliath qualche volta può vincere anche il più piccolo è il bello dello sport è il bello del calcio di tutti gli sport che frase è la Juventus non può essere 2-1 sotto in casa contro la sedernitana? certo che può ragazzi certo che può esserlo io sono stufo io ragazzi credetemi sono stufo stufo di come gioca la Juventus delle prestazioni della Juventus sono stufo ne ho pieni i maroni ne ho pieni i maroni di vedere una squadra che non solo non riesce a fare due partite consecutive fatte bene ma non riesce nemmeno a farne una fatta bene perché in 90 minuti ne facciamo sempre bene 45 oppure 60 ma è 90 quindi ne ho pieni i maroni pure io sono stufo del modo in cui Allegri non riesca a dare un'impronta a questa squadra non parlo solo di impronta tattica parlo del fatto che non è accettabile non è possibile questo non è accettabile questo non è accettabile è quello che sto per dire che la Juventus dopo 20 minuti fatti bene subisca un gol dalla sedernitana che può succedere perché il calcio è fatto anche di sta roba qua e quando ti mancano 70 minuti anzi 75 con il recupero quindi non un gol all'ottantesimo che ti spezza le gambe te lo fanno al ventesimo hai tutto il tempo per fargli gol su gol su gol e vedo una squadra che abbassa la testa vedo una squadra intimorita vedo una squadra paurosa di perdere questa partita una squadra che non crede in se stessa questo non è accettabile da Juventus io sono stufo che l'allenatore Massimiliano Allegri non riesca a dare questo tipo di impronta alla squadra e questo tipo di consapevolezza alla squadra ne sono stufo sono stufo di questa situazione qua sono stufo però ragazzi il fatto che la Juventus sbagli 45 minuti non significa che poi non possa vincere la partita o non significa che i tre punti guadagnati alla fine siano meno importanti di quelli che tu guadagni se fai tutta la partita giocata bene ma che discorso è? anzi valgono doppio perché i campionati si vincono attraverso questi passaggi qua si vincono attraverso queste partite qua si vincono attraverso queste partite qua e se tu sei sotto 2-0 quello che è stato fatto ormai è fatto perché il passato è fatto e tu sei all'intervallo hai fatto 45 minuti imbarazzanti la Salernitana ti ha preso a calci nel culo stanno vincendo 2-0 tu sei sotto tu devi fare tre gol per vincere la partita e tu tre gol li hai fatti tu tre gol li hai fatti e allora perché alla fine mi sento dire damon lasciamo stare l'errore arbitrale alla fine lasciamo stare meglio che non abbiamo vinto perché non ce lo meritiamo qualcuno dice ragazzi meglio che non abbiamo vinto perché non lo meritavamo ma che discorsi sono ma come si fa a interagire a parlare di parlone se queste sono sempre le argomentazioni che vengono fuori come si fa a discutere di calcio come si fa a discutere di calcio o di Juventus se questa è sempre la argomentazione che ormai viene fuori su ogni tipo di discorso su ogni tipo di discorso ieri la Juventus asbettò i primi 45 minuti benissimo alla Juventus si chiedeva una reazione nel secondo tempo la reazione c'è stata la Juventus vince questa partita però porta a caso un punto perché non si sa ancora il motivo non si sa ancora il motivo per cui la Juventus abbia in classifica un punto in più invece che tre dopo la partita di ieri ma la reazione c'è stata allora visto che già siamo costretti a vedere a sorbirci abbastanza schifo nel vedere giocare questa squadra cioè visto che siamo già dentro a un periodo di difficoltà enorme caspita ragazzi ma almeno almeno la prestazione teniamo scusatemi almeno la reazione teniamocela bella stretta è perché se almeno questa c'è come c'era stata a Parigi almeno questa non cancellatemela almeno questa andiamola a riconoscere ad Allegri che forse qualcosa negli spogliatoi ha smosso in questi giocatori andiamola a riconoscere agli stessi giocatori che fino al 95esimo seppur in modo disordinato seppur in modo caotico ti avevano ribattato la partita vincendola per 3 a 2 cioè ragazzi scusate non è che c'è una nota di demerito se tu vinci una partita in modo magari un po' immeritato in modo un po' fortunoso credendoci fino alla fine non c'è una nota di demerito e non c'è un asterisco non ti tolgono un punto se tu hai giocato non bene una partita se tu vinci tra una partita dove a fine primo tempo gli altri vincevano 2 a 0 tu la vinci tra 2 non c'è un asterisco dove ti dicono ti togliamo un punto perché su 90 minuti ne hai sbagliati 45 non si va così non si ragiona così valgono sempre 3 punti 3 punti valgono 3 punti valgono anzi c'è una reazione dietro umana nervosa che è molto importante da tenere in considerazione e da tenere in considerazione perché tante altre volte magari succedeva come faccio sempre l'esempio di Juventus Fiorentina dell'anno di Pirlo che rientra dagli spogliatoi e non solo non riesce a riprendere la partita va a subire anche il terzo gol invece la reazione ieri c'è stata c'è stata una squadra completamente disunita a livello tattico una squadra totalmente sconnessa a livello tecnico questa Juventus qua è però una squadra totalmente unita negli intenti non vogliamo riconoscere nemmeno questo allora siete voi quelli in mala fede non sono io che difendo Allegri allora siete voi quelli in mala fede perché delle sette partite stagionali dove la Juventus ha vinto due partite tre con quella di ieri perché la considero una vittoria anche se i punti non sono pieni di queste sette partite qua con tre vittorie tre pareggi una sconfitta io una cosa la posso dire che questa squadra ha voglia di stare insieme poi voi potete dirmi quello che volete mi potete dire che non si può vedere una Juventus così e ve lo ripeto sono d'accordo con voi è imbarazzante la proposta calcistica della Juventus in fase offensiva è imbarazzante è imbarazzante è nulla è praticamente nulla non c'è contenuto non c'è veramente contenuto la Juventus anche ieri va a vincerti la partita per una reazione nervosa di orgoglio umana non calcistica non tattica perché tu hai ribaltato la partita con l'orgoglio ma in modo comunque disordinato caotico ma l'hai comunque ribaltata allora di queste sette partite ci sono tantissimi aspetti negativi devo dare un giudizio sulla Juventus in queste prime sette partite è negativo è insufficiente però posso mettere almeno la nota a piedi pagina dove dico rispetto agli altri anni vedo un gruppo che ha voglia di stare insieme vedo un gruppo che ha un'unione di intenti quantomeno che è un gruppo che comunque c'ha due maroni così e che comunque non vuole mollare niente fino all'ultimo respiro per questa maglia e che forse oggi il massimo che può dare è questo e col tempo se riusciamo a sbloccarci un po' di testa e a vivere la partita un po' più serenamente allora forse avranno fuori anche le giocate perché la qualità c'è perché altrimenti un secondo tempo così con 20 occasioni da gol non viene fuori posso mettere questa nota oppure non va bene nemmeno questa questo secondo me ragazzi è un discorso è un discorso totalmente personale è un discorso totalmente personale però io non so come ragionate voi perché questo è un discorso globale a 360 gradi che esula dal calcio io non so come siate abituati a ragionare voi io ragiono sempre per obiettivi io quando devo lavorare per fare qualcosa ripeto non sto parlando di calcio di tutto il resto quando devo lavorare per raggiungere qualcosa mi devo rimboccare le maniche per raggiungere qualcosa io lavoro per obiettivi e una volta che raggiungo l'obiettivo una volta che raggiungo l'obiettivo io vado a vedere come l'ho raggiunto ma il fatto che io magari l'abbia raggiunto non nel modo più efficiente possibile non nel modo migliore possibile questo dipende da tanti fattori dipende dal fatto che io magari in qualcosa sono meno portato di altri vuol dire che io magari in un certo periodo ho avuto qualche imprevisto qualche circostanza esterna che ha fatto sì che io raggiungessi quell'obiettivo con più difficoltà rispetto agli altri ma l'obiettivo l'ho raggiunto l'obiettivo l'ho raggiunto ieri sera la Juventus il suo obiettivo l'aveva raggiunto poi dopo discutiamo del come e nuovamente ci diciamo ok 90 minuti settima partita stagionale ancora una volta bel impatto alla partita la Juventus subisce gol reazione totalmente negativa con la squadra che si scompone con la squadra che ha paura che non ci salta fuori con la squadra che smette di giocare a calcio seconda parte di gara reazione nervosa della Juventus che deve fare tre gol in 45 minuti fa tre gol in 45 minuti obiettivo raggiunto tre punti obiettivo raggiunto come ci si è arrivato? con le solite difficoltà con le solite difficoltà ma Allegri sta chiedendo a questo gruppo di stringere i denti in un momento anche numericamente difficile per la squadra perché in un momento di ispirazione hai dovuto mettere in campo un giocatore come Sule e un giocatore come Fagioli entrambi che siccome hanno dimostrato di non essere pronti per questi livelli chiede di stringere i denti il gruppo stringe i denti ti fa tre gol in 45 minuti e la reazione c'è e per me questa qua è roba importante se poi adesso va di moda va di moda perché tutti dicono che il calcio si è evoluto che il calcio è cambiato e allora a fine partita va di moda guardare il numero di tiri fatti il numero di possesso palla quanto hai tenuto il pallone la hit map quanti palloni ha toccato Bremer quanti palloni ha toccato Vlaovic quanti ne ha toccati Kostic guardate solo quello ragazzi io io ho un modo di vivere il calcio da tifoso come vi dicevo che è in prima persona quando guardo la Juve perché poi quando da appassionato guardo la Premier League guardo l'Inter guardo il Milan guardo le altre partite di Serie A di Bundesliga di Liga di Premier League lo faccio con occhio diciamo critico-analitico non da tifoso quando guardo la Juventus è una cosa diversa sono coinvolto emotivamente sono coinvolto emotivamente nella partita e allora ragazzi io nella partita di ieri vi dico ok ok parliamo del fatto che la Juventus abbia ancora messo in atto in mostra una prestazione nei primi 45 minuti non accettabile che sotto certi punti di vista come dicevo nel post-gara di ieri mi fa arrendere mi fa alzare un po' bandiera bianca di fronte a questi dati perché non si capisce quale sia il blocco di questa Juventus non si capisce poi dall'altro lato ragazzi l'emozione l'emozione nella difficoltà nella difficoltà di questa partita l'emozione da tifoso di vedere una squadra che nonostante tutto è lì che spinge che spinge che spinge che spinge che spinge fino al 3-2 al 94-95 quello che era quella è un'emozione ragazzi che nessuno mi toglierà mai che nessuna critica mi toglierà mai che nessun commento su Allegri sulla prestazione della squadra mi toglierà mai perché quel tipo di sudore lì quel tipo di quel tipo di fatica lì che io tra l'altro conosco benissimo anche da calciatore direttante come sapete visto che gioca a calcio quel tipo di emozione lì la conosco la vivo sulla mia pelle e quindi me la tengo stretta poi il giorno dopo a mente lucida vi comincio a dire così Allegri non va bene così Bonucci non va bene così Vlaovici non va bene e chi più ne ha chi più ne metta ma prima quelle emozioni ragazzi voi non me la togliete e mi dispiace francamente per voi se non riuscite più a vivere quel tipo di emozione chiudo solamente dicendo che spero spero vivamente che questo tipo di ingiustizia che abbiamo subito per tutto il popolo della Juve ma insomma per quelli che sono i diretti interessati o sei calciatori questo tipo di rabbia possa essere veramente convertito in energia positiva che la squadra possa avere la consapevolezza del fatto che anche se sei sotto 2-0 tu comunque hai avuto la forza di far tre gol e di ribaltare la partita voglio vedere nelle prossime settimane questa rabbia che viene convertita in energia positiva questa è l'unica come dire magra consolazione l'unico pensiero che mi può un po' consolare dopo un episodio come quello di ieri che è stato veramente grave e che insomma per quanto per quanto infastidisca non toglie e non elimina l'emozione dell'incornata del gol di Arek Milik di Arek Milik